Se non io morire Prima di questa partita ricordiamo Cioè prima di questa registrazione abbiamo fatto almeno 5-6 prove 3-4 prove in partita Fallito Nada Vabbè Ricordo che io tipo non mi gioco quasi mai a Fortnite Cioè la Fortnite Lo potete notare dal livello Appunto Ha forse deciso che però in lobby in partita mai Perché hanno rovinato tutte le armi Hanno messo il pompa del nonno che ho appena trovato Sì Hanno usato un botto la probabilità di trovare il pompa del nonno comunque Vabbè è l'unica arma buona che c'è ora Infatti Perché non c'è nessuno fra Perché cioè Non so se vivranno in futuro Cosa Credo che non ci sono player fra Non lo so Allora solo lì no perché Boh Voglio così Tipo siamo in una partita privata R normale Io sono soltanto questa R A me certe volte quando voglio cambiare armi Mi escono tutti i pompa Gli spas verdi mi escono C'è lo slot di spas verdi E poi cambia Cioè è lagged Fa un motinevo Ora è tipo impossibile cambiare le armi Nell'inventario Cioè A me è impossibile Perché? Boh Mi trovo malissimo Vabbè A cambiare le armi Si player da me Player da me Non c'è un pompa Ricordo Aspice Venivì da me Due Eh niente Siamo morti di nuovo Cioè No no Non ho ancora visto Però Non so se non hanno sentito la mia presenza Però Vengo con le nuove ruote Tu sai il fatto Delle nuove ruote giusto? Mmm Si Quella enorme Si si Ok Siccome non giochi da un botto Oh Ma non c'è Chi ha un lancio raggi? Uno È bianchissima Terra una Terra C'è un po' sotto? No lo mazzo Dove sta? Sto 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 Ok 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 C'è un pompa Sto qua sotto? Aspetta Sto 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 Ciao C'è un lancio Oh yeah Vuoi tu? Ah prendi tu Ok Ok GG Ehm Allora Fra come si fa Aspetta Vuoi le pompe del nonno io E c'è questo tipo di pompe Si può tipo Trasformare E devi trovare gli ingranaggi Cioè devi rompere le macchine E trovare degli ingranaggi Ok Per esempio rompi le ruote Vedi? Ok Non ne ho paura questa Ma te lo faccio Ma te lo trovo io Oppure con le ossa degli animali Puoi farti le armi primordiali Tipo il pompa spammoe Oh Fra togli ti Quello Togli ti Bellissima sta macchina così Eh comunque la puoi rompere anche tutta Si trovano altri ingranaggi Se li rompi Ma comunque però tu un nonno verde Si può tipo migliorare? Ehm no Per farti lo spas Devi avere Quello tarocco blu Tipo questo? Eh si E quanto Quanto serve? Si ingranaggi Io ne ho due Aspetta Io ce ne ho tre Ti uscirà sopra L'inventario Dove hai l'ho studiato Dalle armi Senza che venga L'inventario Ti uscirà tipo Dal martello Il martello Che batta sopra l'arma E la puoi modificare Dall'inventario Ehm no Sì vai su Spingi la freccetta in alto E poi fai R1 E poi Ti dirà l'arma che puoi Mi mancano tre ingranaggi Rompiamo la macchina Che lo vengono so io Hai colpi Non c'è raggi Vero? Ehm Mi sa di Sì No Arrivo Dove? Oh yeah Uno solo? No Non uccidere Non uccidere Non uccidere Per così uscire Ok Salà Trento e bianco Bianco Ok Easy Erano Spero Voi tu No Era il mio Per sbaglio L'ho cambiato Con questo Devo fare l'acqua Esplosivo Erano un po' Bottarsi Erano Come Avevano una scritta Non mi viene il nuovo Cosa? Avevano la scritta Non mi ricordo come si chiama Non giapponese Cinese? Araba? Eh bravo Arabo Sério? Eh sì Avevano il nickname arabo C'è nickname E' il username Guarda Ma? Sì Cosa? Si 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 è baccato Ah Spero un altro Un attimo Un attimo Un attimo Ok Macchina? Notate Scusa? Distrutta Ma non è ancora Del tutto È forte Caduto? Guarda Madonna Scusa Del loot C'è un assalto blu qua? Si Uno Ok c'ho otto C'ho otto ingranaggi Io ne ho uno Ok Lo stavo creando Devo stare fermo Si Vai Vai Spassa Si Si Con quanti flopper esterno Uno No Ok Fatti Quello lì Sì Faccio questo Che c'ho 9 9 9 Di vita E poi faccio questo No stava questo Però guarda 9 9 9 di vita Tu sei Sì Allora Siamo 29 Io c'ho 3 Vieni 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 Stai a dire quanto? Ah 2 Io 3 Ok Allora Cosa c'è questo? Ci prendiamo Ah Vediamo Ah ci ha regalato i scigli Comunque Questo dà anche il rift Bro Ci sparano Che infame Non profitto 33 33 Sento 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 Tutto Tutto Ma Ah Capito? Sì Ah muore Terra 1 Muore Grande 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 Last il pino vato per te Lo meriti un botto Prendermi a restarmi subito Perché Sì Sì Però aspetta Mi faccio un po' di cuore Ancora Mi puoi Cappar Pinga sto a posto Per favore Così prendo Il resto dalle mie armi Parato Le tue cose Vamos Io che pensavo di morire Sì Anche io pensavo che non ce la facevi Però Cioè ora comunque si fanno molto meno Cioè molto Molto meno Facilmente I mazze Cioè Non ce n'ho mai Sì Infatti C'è Eccomi Non ho preso nulla Dei tuoi colpi Ok ok Non ho preso nulla di te Grazie Allora La dovrebbe essere Il lanciare Il balanciare Anzi Questo C'è Di 90 Fita Voi ho detto Questo Ok Questo per forza Ecco Sto a meno di prima Allora Quindi faccio io Questo mani Tutto Non ammazzo Ovviamente Allora Cosa posso fare Ah Creare di tutto Faccio così E' il mio medikit No Lo posso io C'è il stampo Ok grazie Ok Questa è una cassa Fatela con la scioglione Un bel casino Abbiamo fatto Hai fatto Sì Allora Basta io Io da ora in poi Invento un falegname Sei tu Sì sì Con questo mi pare che posso farmi No Non puoi cercare Niente Siamo quasi vicino Alla zona Alla zona Infatti Qua c'è Qua c'è Ma Cos'è Mi sa che ci sono animali Cosa Sai quando tipo senti passi Macchine Nella visuale Cioè nel Sì Tutti quelli Però Non era né macchina Né passi Mi sapevano animali Sì Ho galline Ho lui Ho lui Cioè Cioè io non c'è Io non c'è Allora Ma perché è già qua È arrivato il fuoco Allora Abbiamo incendiato una casa Dov'è Con Cos'è Come stanno le mele 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 Eccolo Vedo se riesco a farmi A costruire tipo una L'arco Aspetta Sì Allora Arco Meccanico Esplosivo Sei granate Puoi farti quello Infuocato Con questi Ok Arrivo Devo fare Prima la mia Vado Vado Frasi Se vuoi Io ho sette ingranaggi Qua c'è Un pompa blu Quello tarocco Tu puoi fare Ok ok Grazie No No non è quello No No Vabbè tu dammi gli ingranaggi Ok Ok grazie Ah com'è che devo fare Devo prendere Questa Sparano Tutto Fai col bilancio Raggi No Fra io Non Che Si aspetta Ahia Aspetta Arriva Ma non so Cosa Adonda adulto Qua c'è lo spasso Ok Tutto Già Eh prendo Lo spasso Fallo La sifra Sifra Ok Questo Andiamo Grazie Aiuta No Ah no Nella tempesta Vabbè qua sta Fallo Dovrebbe stare No Aspetta Preferio una No No Mi spiace Scusami Soprano Eh niente Siamo morti Soprano Assisti Sì Ok Non ci sono Una Ok fra io Ho l'arca La donna adulta Quindi potremmo scappare Anch'io ce l'ho Ok anch'io Quindi possiamo scappare O pushare No 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 scappare Io mi devo fare questo Immediatamente Ma queste armi Queste Pistole Dopi pistole Salterine Che Queste sono Aspetta un attimo Fra Arrivo Spare no Aiuto No no cavolo No no cavolo No e non posso Muoglio 15 di vita Me la gioco Ok Percato Fra io ce l'ho Le doppie pistole Salterine Tipo Non mi pare Si so Facce di cadere Tutto Attenso Un attimo Marco Scappa Scappa No in bocca Brava Tra scappa 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 Non ce la fai In due Sono in due Ok Guarda No No pure qua Player Che pizzo Ah no Guarda Stiamo sparando Dissieme Stiamo sparando Buono Ma Cos'è No 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 Che pizzo No pizzo E' peccato Era uno V2 Vabbè Non può fare niente Comunque Quello Era un dinosauro Vabbè Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al canale E per non perdervi Altri video del genere Attivate la campanellina Al prossimo video Ciao Ciao Ciao